La popolazione sta progressivamente invecchiando con un conseguente aumento dei malati cronici. Ci sono delle risposte nel PNRR per questi pazienti? Il tema della cronicità negli anziani non è certamente una novità per il nostro paese. Molto si è fatto, molto si è dibattuto, sicuramente attraverso l'esperienza tragica del Covid-19 e quindi conseguentemente con tutte le risorse che saranno implementate col PNRR, la novità è che finalmente ci sarà un approccio sistemico, peraltro regolato dalla milestone dell'EDM 77 che è veramente la riorganizzazione di tutto il sistema sanitario, non solo del territorio ma nella globalità anche dei rapporti con le altre reti che lo compongono. Qual è il ruolo del PONGOV per il rafforzamento dell'ADI, l'assistenza domiciliare integrata? Guardi, il PONGOV ha avuto l'avventura di essere un anno prima dell'esperienza del Covid e di conseguenza nella sua ricerca di buone pratiche in tutte le regioni e le aziende nazionali è riuscito anche a coagulare una sorta di comunità di pratica, quindi più di un migliaio di persone che operano all'interno delle regioni, delle aziende ma anche dei comuni sul tema dell'assistenza socio-sanitaria. Uno dei punti cardine insieme alla telemedicina colgo l'occasione per ricordare che Agenas è agenzia nazionale proprio per la telemedicina e per la sanità digitale e gli altri punti sono la telemedicina, la presa in carico e i PDTA oltre che la fragilità nei pronti soccorsi e le fragilità speciali, tra virgolette, come la salute mentale, la neuropsicletria infantile e i SERD e la medicina penitenziaria. Dicevo, il punto cardine è proprio la domiciliare che all'interno del PNRR trova un incremento di 800.000 persone assistite a domicilio e quindi l'insieme di tutto l'esperienza del PONGOV ha potuto essere substrato importante sia attraverso Agenas per la costruzione del PNRR e anche, come dicevamo, per l'implementazione del DM77, oltre che per la sua scrittura, naturalmente. In che modo dovrà essere riorganizzata la rete di assistenza territoriale affinché il servizio di ADI possa risultare adeguato? Molto dipende dall'implementazione dell'AST, delle centrali operative territoriali e dell'utilizzo adeguato della grande professionalità della nuova figura dell'infermiere di famiglia e di comunità. Secondo me questi sono i punti cardine. La cosa importante è mantenere un'importante conoscenza di tutte quelle che sono le necessità e dei fabbisogni anche dei singoli individui. La presa in carico non solo dell'individuo ma di comunità, la famiglia è naturalmente la prima comunità. Presa in carico proattiva che viene declinata attraverso le centrali operative territoriali e attraverso l'assistenza domiciliare che viene integrata nel sistema globale dell'assistenza sociosanitaria dei nostri pazienti. Grazie a tutti.